buonasera e benvenute a tutte a tutti sul mio canale questa sera volevo recensirvi e parlarvi di un prodottino che ho acquistato recentemente quindi abbastanza da poco che sto utilizzando costantemente tutti i giorni da quando l'ho acquistato e che mi sta piacendo tantissimo e la trovo una soluzione veramente incredibile e formidabile per me molto pratica all'utilizzo di più prodotti che in genere vado ad utilizzare per la pulizia e la lucidatura del piano cottura del lavello della cucina piuttosto che pulire il tavolo della cucina comunque tutto ciò che ha in ambito diciamo cucina cromature rubinetterie eccetera e in particolare mi sto riferendo al rio melaceto questo detersivo mi ha drasticamente cambiato la routine delle mie pulizie contiene aceto di miele biologico ed è più naturale più efficace non contiene solventi ed è per questo che va benissimo anche per essere utilizzato ad esempio per andare a pulire sgrassare disinfettare il tavolo della cucina va benissimo su labelli piastrelle fornelli forno frigo elettrodomestici utensili da cucina super brillantezza per acciaio e cromature allora io mi trovo benissimo da quando ho comprato questo prodotto tra l'altro ho acquistato in super offerta ad attività a 95 centesimi perché mi ha cambiato la routine io prima per pulire ad esempio il frigo utilizzavo aceto di miele naturale bicarbonato o un prodotto specifico per il frigo ma andava bene solo per il frigo per pulire il labello utilizzavo l'aceto anticalcare cif comunque altri prodotti e più prodotti mentre con questo prodotto riesco a fare tutto ed è un unico prodotto perché appunto ci pulisco il frigorifero ci ho già pulito l'interno del forno a microonde ci pulisco il piano cottura tra l'altro lo lucida veramente a fondo non avete bisogno di altro perché basta una spugnetta umida e una spruzzata di questo poi andate ad asciugare con un panno in microfibra un panno in cotone ed è fantastico la stessa cosa per il labello della cucina vi lascio un piccolissimo e breve video dove non pulisco tutto ma giusto un labello al volo per farvi vedere veramente come funziona molto molto bene ecco come avete visto ciao il labello rimane lucidissimo lo utilizzo anche appunto per pulire i piani della mia cucina quindi tutti i ripiani dove magari vado a cucinare o comunque a tagliare cose dove comunque cose che mangio e a pulire anche il tavolo della cucina stesso l'ho utilizzato anche per pulire le piastrelle sia del bagno che della cucina quelle qua dietro appunto al piano cottura ed è fantastico intanto la profumazione è gradevole perché sa di aceto misto mela floreale quindi è una profumazione un po' particolare ma che a me piace molto e poi appunto lo trovo un prodotto straottimo che vi strastraconsiglio perché io aver trovato un prodotto che mi consenta di fare più funzioni senza dover cercare mille cose è ottimo soprattutto perché è un prodotto non dico totalmente bio e naturale ma contiene aceto biologico non ha solventi comunque non ha un sacco di schifezze che fanno male ovvio pulire con l'aceto per me rimane sempre la cosa migliore perché l'aceto è naturale ma un prodotto così che comunque non è naturalissimo ma non è neanche aggressivo come certi detersivi è la soluzione fantastica perché appunto mi consente in velocità di pulire più superfici e più cose in brevissimo tempo quindi assolutamente formidabile io comunque questo ho pulito anche l'interno della lavastoviglie perché appunto è aceto e poi l'ho risciacquato bene con l'acqua all'interno della lavastoviglie l'ho lasciata aperta praticamente a mezza giornata in modo che andasse a evaporare tutto ma si è veramente lucidata, sgrassata, pulita quindi un prodotto ottimo ne basta pochissimo vedete che infatti ne ho usato poco perché veramente uno spruzzo ed è super efficace sono 800 ml quindi quasi un litro di prodotto e veramente bastandone poco vi dura tantissimo perché veramente è fantastico io mi ci trovo benissimo lo ripeto e continuerò a ripeterlo ve lo consiglio perché secondo me quando si trova un prodotto che è buono qualità prezzo e soprattutto ci semplifica la vita perché basta uno e non 500 perché non consigliarlo io mi ci sto trovando veramente bene quindi ve lo consiglio tra l'altro oltre a andare a pulire elimina anche i cattivi odori specialmente dal frigo se avete lasciato in frigo una cipolla qualche giorno o del pesce quindi ha preso un po' quell'odorino particolare questo va a rimuoverlo veramente a fondo con questo ci ho pulito anche il bidone della spazzatura della cucina ho tolto il sacchetto l'ho pulito bene odori andati via fantastico quindi assolutamente consigliato anche per eliminare i cattivi odori quindi ottimo e nulla veramente fantastico io spero che questo video vi sia stato utile fatemi sapere qua sotto nei commenti se conoscevate già questo prodotto se lo utilizzate se oltre agli utilizzi che vi ho detto io utilizzate anche per pulire altre cose quindi fatemi sapere qua sotto così che possiamo scambiarci consigli e informazioni se non siete ancora iscritti non perdete altro tempo e iscrivetevi al canale per non perdere i miei fantastici video tema casa tema beauty ma soprattutto ultimamente tema casa perché è la cosa che mi sta più a cuore e lasciate appunto un commentino qua sotto e non dimenticate soprattutto di attivare la campanellina perché se siete iscritti ma senza campanellina non siete informati quando carico un video e lasciatemi un like di supporto e niente io vi saluto vi auguro una buona serata molto affosa e ci vediamo al prossimo video ciao